Oggi parliamo di lettura veloce, voglio spiegare appunto come leggere più rapidamente e lo faremo con un esempio pratico in cui ti dimostrerò varie strategie che puoi utilizzare. Prima di parlare di questo però voglio ricordarti che attraverso il link in descrizione puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Troverai contenuti scaricabili, spiegazioni pratiche, teoriche e comunque tutto quello che ti serve per riuscire a studiare meglio e in metà del tempo. Per quello che riguarda invece il video di oggi vediamo anzitutto la sigla e poi ci concentriamo sul capire quali sono le strategie per riuscire a leggere più velocemente. Vediamo insieme quindi cosa dovresti fare per leggere più velocemente. L'esempio pratico che ti propongo si baserà su questo testo, non ci interessa al solito molto il contenuto, la cosa davvero importante è capire la tecnica, la pratica, che in questo caso è l'esempio pratico, che si baserà su tre requisiti per la lettura rapida, quindi per leggere più velocemente. Deve essere lineare, devi utilizzare assolutamente un puntatore e devi leggere per due o tre righi alla volta. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal primo requisito. Il fatto che la lettura deve essere lineare. Normalmente il nostro occhio, e questo è giustificato anche un po' dalla cantilena che utilizziamo quando leggiamo, normalmente segue un percorso a saltelli. Quindi ti faccio un esempio pratico. Leggiamo così. Abbiamo già visto come cervello e mente siano potenti dispositivi per riprodurre, eccetera, eccetera. Questo tipo di lettura segue un po' dei saltelli, da una parola all'altra, magari c'è anche una nel mezzo, e questo ci rallenta moltissimo nella lettura. Quando leggi, devi rispettare una linearità nello sguardo anche che ti permette la lettura. In questo senso, quindi, la lettura diventerebbe. Abbiamo già visto come mente e cervello siano potenti dispositivi per riprodurre, anticipare, eccetera. Come vedi, è molto più fluida la lettura e anche molto più rapida. Questo è il primo requisito. Su questo andiamo a costruire aggiungendo anche un puntatore, nel senso che puoi utilizzare o una matita, come quella che ho messo qui in sovrimpressione, puoi andare a utilizzare una penna, anche un dito, quello che preferisci. L'importante è puntare alla parola d'inizio e poi via via seguire il tragitto della lettura, che deve essere, rispettando il primo requisito, lineare. Quindi cosa andiamo a fare? Muovendo la matita, in questo caso, leggiamo seguendo il ritmo impostato dalla matita, la velocità. Quindi, facciamolo insieme. Abbiamo già visto come cervello e mente siano potenti dispositivi per poi riprodurre, e così via. Quindi, questo è il secondo aspetto importante. Devi utilizzare un puntatore, perché ti aiuta a leggere più velocemente, anche perché rispetta la linearità, che è il primo requisito che abbiamo visto prima. Quindi, se continuiamo in questo modo e proviamo a raggiungere all'aspetto del puntatore anche la lettura di almeno 2-3 righi per volta, riusciamo a leggere nettamente, più velocemente. Infatti, applichiamo tutti e tre gli elementi, quindi letture che sia lineare con un puntatore di 2-3 righi, e la lettura sarà in questo modo. Abbiamo già visto come cervello e menti siano potenti dispositivi per riprodurre e anticipare eventi dell'ambiente. Sono quindi in grado di simulare la realtà. E quindi, in questo modo, possiamo leggere in modo molto più rapido, quindi più velocemente. Andiamo a rispettare sempre questi tre requisiti, che devono tutti essere presenti. Ovviamente non possiamo utilizzare l'aspetto della linearità, leggere 2-3 righi e dimenticare di utilizzare un puntatore. In un certo senso, sono tre requisiti, sono tre caratteristiche che, se utilizzate tutte insieme, danno il miglior risultato in assoluto e, come vedi, sono delle modifiche nel modo in cui leggi semplicissime. E questo ti permetterà di capire anche meglio le informazioni. O comunque, se non dovessi capirle alla prima lettura, dato che riesci a leggere più velocemente, puoi serenamente ritornare all'inizio del processo e leggere un'altra volta ciò che ti è sfuggito, ciò che non hai capito davvero bene. Dato che la lettura è più rapida, puoi anche insistere con più letture finché riesci a capire tutto quello che c'è da capire e non perderai tantissimo tempo e la lettura quindi non sarà noiosa e frustrante. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Se dovessi avere altri dubbi o hai bisogno di chiarimenti, te lo dico sempre, te lo ripeto, puoi tranquillamente scrivere nella sezione dei commenti o puoi contattarmi attraverso tutti i vari collegamenti che trovi in descrizione. Ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.